Ben trovati a tutti quanti. Chi segue questo canale sa che quando Hillary Clinton fu sconfitta nella corsa per la Casa Bianca e Donald Trump fu eletto Presidente degli Stati Uniti, io ho espressi la mia soddisfazione, il mio sollievo, perché ritenevo che l'elezione di Hillary Clinton o di uno dei repubblicani che si sono contrapposti a Trump durante le primarie avrebbe significato un ulteriore aggravarsi dei rapporti tra Stati Uniti e Russia, tra Occidente e Russia, con la concreta possibilità di una nuova guerra mondiale, di uno scontro tra le due maggiori superpotenze militari del pianeta. Viceversa, con Trump il rapporto tra la Federazione Russa e gli Stati Uniti d'America sarebbe stato più collaborativo e all'insegna di una visione differente dei rapporti internazionali e così è stato. Il vertice tra Trump e Putin ha dimostrato che per la prima volta da molti anni il Presidente degli Stati Uniti si pone nei confronti della Russia in maniera non pregiudizialmente ostile e in una forma di rispetto per il ruolo internazionale che la Russia inevitabilmente ha e nell'ottica di un rapporto tra le varie potenze che si basi sul reciproco rispetto, sul rispetto delle reciproche sfere di influenza e su un approccio multilaterale. In effetti una delle accuse, una delle principali accuse mosse a Donald Trump, al di là di quelle quantomeno inconsistenti di essere maschilista, di avere un rapporto con le donne di natura conflittuale, di non amare i gay, di fare delle gaffe, ma l'accusa principale che è sempre stata mossa a Donald Trump è quella di avere rapporti troppo stretti con la Russia sia di essere stato aiutato dai russi nella sua corsa alla presidenza. È un'accusa al tempo stesso ridicola e ovvia. Ridicola perché è impensabile che le elezioni americane siano determinate dalla presenza o meno nei social di presunti agenti russi che tifano per Trump. Ovvia dall'altro lato perché è qualcosa di pacifico che i servizi segreti e che l'intelligence dei vari paesi spingano a livello internazionale per la vittoria del candidato a loro meno ostile. Lo fanno tutti quanti, non si capisce perché non dovrebbe farlo la Russia di Vladimir Putin. È ancora più ridicola la cosa se si pensa che l'accusa viene dagli americani che hanno il primato mondiale da sempre dell'interferenza nelle altre elezioni e quando non ci riescono con i loro enormi mezzi economici e mediatici interferiscono direttamente con i mezzi militari abbattendo i governi che non gli sono graditi e sostituendoli con altri governi a loro più vicini. Ma per capire il differente approccio nei confronti della Russia, della Clinton e di Trump, ossia per capire l'elemento di eccezionalismo che Trump rappresenta nelle politiche americane degli ultimi vent'anni, è indispensabile capire qual è la differenza ideologica tra i due leader, cioè tra la Clinton e Trump e in generale tra i leader dell'establishment americano, cioè tutti quelli che i media appoggiavano, cioè la Clinton sicuramente da un lato, ma anche i vari repubblicani liberali che condividevano la stessa visione sostanzialmente dei rapporti internazionali e della politica economica della Clinton e il magnate Donald Trump. La Clinton esattamente come Obama e come i tecnocrati dell'Unione Europea ha una visione globalista del mondo e dell'economia. In America esattamente come in Europa una lobby economica è di fatto, è stata di fatto a capo della politica e ha imposto quelli che erano i suoi progetti e le sue ambizioni prima agli Stati Uniti e poi di conseguenza al resto del mondo. L'interesse fondamentale di queste potentissime lobby economiche trasnazionali era quella di globalizzare i processi economici e quindi di in qualche modo eliminare il ruolo dello Stato nazionale da quello che è il processo di produzione e di consumo dei beni, che prima della globalizzazione per tutta la fase che è andata al dopoguerra, alla fine della guerra fredda, avvenivano principalmente su base nazionale. In buona sostanza la Chrysler, tanto quanto la Fiat, producevano le loro automobili in un determinato Stato e fondamentalmente le vendevano in quello stesso Stato. Questo necessitava di un approccio fordista all'economia, ossia i lavoratori che producevano i beni erano i primi a doverli consumare e quindi dovevano avere un reddito, uno stipendio che gli consentisse di acquistare quegli stessi beni sul mercato interno. In sostanza quindi dovevano essere loro a rappresentare la domanda aggregata e la domanda interna di ogni singolo Stato era quella fondamentale per lo sviluppo dell'economia. Il corollario di questo postulato era che gli stipendi dovevano essere sostanzialmente alti e che l'occupazione dovesse essere forte, in quanto ogni occupato era un possibile acquirente delle merci che il capitalismo nazionale produceva. Verso la fine degli anni Sessanta le grandi lobby economiche inizierono a mettere in discussione questo modello perché ritenevano che non fosse vantaggioso per i loro interessi, in quanto portava a un'eccessiva redistribuzione della ricchezza su base nazionale e hanno quindi iniziato a portare avanti il progetto di globalizzazione dell'economia che era frenato dalla presenza del blocco comunista. Caduto il blocco comunista la globalizzazione ha potuto diffondersi in tutto il mondo con i grandi gruppi economici transnazionali che erano finalmente in grado di produrre nei paesi a basso costo e vendere ovunque ci fossero acquirenti a livello globale. Tutte le barriere ai commerci internazionali dovevano essere abbattute e in questo nuovo modello di produzione la competitività diveniva indispensabile, ossia i lavoratori non dovevano più avere salari necessari a comprare le merci da loro stesse prodotte, ma queste merci potevano essere vendute in qualunque luogo del globo così come potevano essere prodotte in qualunque luogo del globo. Per questa ragione in America esattamente come in Europa e negli altri paesi occidentali la condizione dei lavoratori è drasticamente peggiorata, mentre la ricchezza si è concentrata in maniera scropositata nelle mani di pochi. Questi pochi rappresentavano appunto quell'oligarchia che ha molti aspetti di un nuovo feudalesimo globale che di fatto imponeva e decideva le politiche in tutti gli stati dell'Occidente mentre la classe politica, quindi gli eletti dal popolo, rinunciavano gradualmente alla sovranità in materia economica, nel caso degli europei anche in materia politica, lasciando che fossero i gruppi organizzati della grande finanza e delle grandi aziende internazionali a stabilire quali dovevano essere le politiche economiche adottate dai vari stati. L'elezione di Trump è stata la prima grande forma di ribellione a tutto questo perché Trump si rivolgeva ai lavoratori americani, in particolare agli operai, promettendo di riportare in patria la produzione e di conseguenza di aumentare il loro tenore di vita e la loro possibilità di consumare. Questa è la ragione per cui Trump ha vinto le elezioni e questa è la ragione per cui a mio avviso Trump sarà riconfermato presidente nelle prossime elezioni che si svolgeranno negli Stati Uniti. La Clinton, così come i repubblicani che si contrapponevano e si contrappongono a Trump, erano espressione di queste lobby economiche internazionali, esattamente come le tecnocrazie europee. Di conseguenza l'ostilità nei confronti del candidato Donald Trump è stata fortissima ed è stata assolutamente bipartisan. Tutti i media, tutti i gruppi mediatici, tutti i grandi giornali, anche quelli non grandissimi, tutta l'industria dell'entertainment, Hollywood, l'industria musicale, consideravano Trump un nemico mortale perché era di fatto un nemico di quelle oligarchie economiche che possedevano questi mezzi di comunicazione. Nonostante questo il voto dei lavoratori americani impoveriti dalla globalizzazione che chiedevano posti di lavoro dignitosi e che chiedevano di riportare in patria la produzione delle merci ha consentito a Donald di diventare presidente degli Stati Uniti e le reazioni furibonde che ne sono nate non sono mai cessate. Ancora oggi vediamo come, tanto negli Stati Uniti così come in Europa, le lobby economiche e mediatiche attaccano incessantemente Trump come hanno fatto con Putin e come fanno con il governo che oggi siede in Italia. Un altro elemento importante della politica che le lobby internazionaliste portavano avanti era di natura internazionale, cioè in questa visione del mondo in cui tutto il mondo è una grande fabbrica in cui si può produrre ovunque e vendere ovunque, necessitavano di eliminare tutti quegli Stati, tutte quelle potenze, medie potenze o anche Stati non particolarmente importanti ma magari strategici per ragioni geografiche o per la presenza di materie prime e convertire con la persuasione o con la violenza coloro che invece rivendicavano una indipendenza e ritenevano che i loro paesi non dovessero uniformarsi a questo nuovo modello economico globalista e liberista. Questa è la ragione per cui fondamentalmente dalla fine della Guerra Fredda i conflitti si sono moltiplicati in tutto il mondo e in ognuno di questi conflitti gli Stati Uniti d'America avevano un ruolo di promotore. Gli Stati Uniti hanno iniziato a fare guerra ovunque per imporre questo modello in tutto il mondo perché il modello di economia globalizzata doveva essere accettato globalmente. La posizione di Trump invece in politica estera era necessariamente differente in quanto volendo Trump fare degli Stati Uniti d'America un paese in qualche modo più isolato, più concentrato su se stesso che produceva e consumava i propri beni, non era necessario contrapporsi in maniera violenta agli altri paesi ed anzi era controproducente anche perché l'impero globale di cui gli Stati Uniti erano di fatto il braccio armato ma che aveva come testa non Washington ma il sistema finanziario globale, il sistema industriale globale, drenavano le loro quantità di risorse che invece potevano essere utilizzate per le infrastrutture, per la crescita, per lo sviluppo e naturalmente la Russia era il primo e più pericoloso nemico insieme alla Cina per ragioni economiche ma la Russia per ragioni strategiche e militari che doveva essere riportato a obbedire agli ordini del nuovo feudalesimo globale e quindi a convertirsi come ha fatto l'Europa al liberismo globalizzato. In una prima fase questo è riuscito in maniera molto semplice con Boris Yeltsin che ha svenduto tutti gli asset russi e che ha trasformato quella che era una grande potenza in un paese povero con enormi disuguaglianze e colonizzato dalle lobby economiche internazionali ma l'elezione di Putin ha cambiato tutto, con Putin la Russia è tornata un grande protagonista globale e ha iniziato a proporre e a portare avanti un modello molto diverso sia di economia con la posizione del ruolo del dollaro come moneta di scambio universale a favore di un paniere di monete dei vari stati che avevano un ruolo primario dell'economia globale e a rivendicare la propria sfera di influenza. In prospettiva l'unico modo di risolvere la questione sarebbe stata una guerra, uno scontro militare tra i due colossi per imporre la visione liberista e globalista del mondo. L'elezione di Trump ha mandato in soffitta questa possibilità e ha inaugurato invece una fase di dialogo e di collaborazione con la Russia che oggi ha in questo vertice tra i due presidenti un momento in qualche modo storico. In tutto questo particolarmente tragico è il ruolo dell'Unione Europea. L'Europa dopo aver accettato in maniera entusiastica o meglio le oligarchie tecnocratiche dell'Europa che hanno accettato in maniera entusiastica il nuovo modello economico, politico e in qualche modo antropologico del mondo liberista globale si è accodata di conseguenza agli Stati Uniti d'America nella crociata contro la Russia. Ma l'elezione di Trump e il cambiamento radicale dei rapporti tra Russia e Stati Uniti, in particolare in seguito a quella che di fatto è la sconfitta degli Stati Uniti d'America nello scenario siriano, ha lasciato l'Europa in buona sostanza con il cerino in mano. Le recenti dichiarazioni di Trump sul fatto che l'Unione Europea, attenzione che l'Unione Europea, non gli europei e meno ancora gli stati europei, sia una nemica degli Stati Uniti, le raccomandazioni a che Luisa May per una Brexit hard nei confronti di Bruxelles, nonché l'appoggio per i vari governi sovranisti, in primo luogo quello italiano, ha spiazzato completamente Bruxelles che si trova oggi nella difficile condizione di essere il più realista del re, cioè di avere una serie di regole che sono il prodotto di quella che era vent'anni fa la proiezione americana, cioè la visione liberista e globalista che gli Stati Uniti d'America hanno imposto a tutto il mondo e che però oggi negli Stati Uniti di fatto non esiste più. I dazi che Trump ha deciso di imporre all'Europa e di conseguenza alla Germania ne sono l'esempio più lampatte. L'Italia da tutto questo ha molto da guadagnare, innanzitutto perché ormai abbiamo capito tutti come all'interno dell'Unione Europea, di questa struttura dell'Unione Europea e non ce ne sono altre in vista, il nostro Paese si è condannato a un progressivo declino politico ed economico. L'indebolimento dell'Unione Europea che l'approccio di Trump sta portando avanti è funzionale agli interessi italiani. Non a caso il governo gialloverde, per bocca del ministro degli interni Salvini, ha dichiarato che se l'Unione Europea porterà nuovamente avanti la proposta di rinnovare le sanzioni alla Russia, l'Italia potrebbe porre il veto. L'Italia era il secondo partner commerciale della Russia dopo la Germania ed è stata enormemente danneggiata dalle sanzioni, molto più della Germania che grazie al suo peso economico e geopolitico è riuscita in varie misure ad aggerarle. Per noi non è stato così, abbiamo perso un mercato essenziale e abbiamo perso un alleato strategico, cioè Mosca. Oggi abbiamo la possibilità di fare la voce grossa, abbiamo un governo che è disposto a fare la voce grossa e quindi possiamo riconquistare quella fetta di mercato che ci è stata tolta, ma soprattutto possiamo riconquistare quella sovranità che le tecnocrazie di Bruxelles ci hanno tolta e riportare il nostro paese a una forma di economia diciamo keynesiana, quindi a produrre come siamo in grado di fare principalmente per il mercato interno, quindi portando all'aumento dell'occupazione e dei salari e abbandonando la folle ideologia dell'austerità che si è visto essere assolutamente disfunzionale. I vantaggi e le prospettive per il nostro paese sono enormi e il fatto che oggi abbiamo un governo che sembra avere il coraggio e la volontà di cogliere queste prospettive dovrebbe essere una buonissima notizia. L'Unione Europea viceversa sembra avere i giorni contati, non soltanto perché il modello economico liberista che ne è la struttura fondamentale, che è la base di tutti i trattati che costituiscono l'Unione Europea ormai si è dimostrato fallimentare e viene abbandonato da tutti quanti a cominciare dagli Stati Uniti d'America che lo hanno inventato, ma anche inoltre il consenso popolare ha questa struttura tecnocratica lontanissima dai bisogni della gente e lontanissima da quella che è anche la sensibilità profonda dei cittadini europei che invece rivendicano la loro identità, le loro radici, la loro storia e soprattutto mancano ormai completamente i supporter a livello internazionale, cioè coloro che quest'Unione Europea l'hanno dall'esterno creata, l'hanno imposta e che oggi l'abbandonano. La prospettiva degli Stati Uniti d'Europa è sempre stata molto improbabile ed è ormai impossibile, proprio perché quest'Unione Europea ha portato a una tensione fortissima tra i vari popoli europei, la questione ad esempio della vittoria dei mondiali della Francia lo ha dimostrato, la Francia che fino a poco tempo fa era considerata a noi il paese più vicino, erano i nostri cugini, oggi è il paese più odiato ma i greci odiano i tedeschi, i paesi del gruppo di Visegrad odiano i paesi occidentali, insomma questo modello di Europa ha portato a un odio profondo tra i popoli europei e le istituzioni che non li rappresentano e tra i vari popoli europei contrapposti negli propri interessi l'uno contro l'altro e di conseguenza sono volute meno tutte quante quelle che erano le ragioni per cui questa struttura elefantiaca e contraddittoria stava in piedi. L'immagine di Juncker che completamente ubriaco, barcolla e viene sorretto dai suoi vicini rappresenta benissimo quello che è oggi l'Unione Europea, cioè un'istituzione senza senso ubriaca che traballa in attesa di crollare.